Vittoria di misura per l'Arezzo calcio femminile che tra le muramiche del città di Arezzo ha sconfitto per un a zero il Pavia Academy conquistando la permanenza in categoria con tre turni di anticipo. Al decimo subito occasione Arezzo, Lico entra in aria, vede il movimento di Diaz, la spagnola però non riesce ad impattare bene sulla palla che termina di poco fuori. Pochi minuti dopo le Amaranto ancora propositive ma l'occasione non viene sfruttata. Al ventesimo l'Arezzo ancora pericoloso, Razzolini lavora al limite dell'aria, un ottimo pallone per Lico, un tiro da lontano, forte ma non preciso. Al trentacinquesimo è Diaz a lavorare un pallone in maniera egregia cercando poi sul secondo palo Miotto che però arriva in ritardo. Due minuti il gol Amaranto, Miotto manovra a centrocampo e decide di verticalizzare per Razzolini. Il capitano Amaranto entra in aria e lascia l'avversaria sul posto con una sterzata perfetta. Davanti al portiere la 97 spedisce il pallone all'incrocio, decimo gol in campionato per il capitano Amaranto. La seconda frazione si apre ancora con Razzolini, stavolta si mette in propria e tenta di sinistro la conclusione ma l'estremo ospite respinge. Al sedicesimo pressione Arezzo che porta Martino al tiro da fuori aria, la sfera finisce fuori di poco. Al ventinovesimo in transizione negativa l'Arezzo si fa infilare da Codeca. Pochi minuti dopo un ottimo scambio offensivo favorisce Razzolini. Entrata in aria tenta il tiro da posizione dei filati ma non impensierisce Migliazza. Tre minuti dopo Itadei a trovare un cross insidioso addomesticato da Fragnito che viene atterrata in aria. Dal dischietto Razzolini si fa ipnotizzare dal portiere avversario e il risultato rimane fermo sul 1-0. Al quarantaduesimo Licco direttamente da calcio d'angolo colpisce il palo facendo venire un brivido a tutto lo stadio. Triplice fischio ed esultanza per tutte le calciatrici a Maranto. Nelle ultime tre partite le ragazze di Mister Leoni cercheranno adesso di implementare il bottino di punti cercando di conquistare la miglior posizione in classifica. Per scontato non c'è mai niente e quindi oggi è arrivata per fortuna la matematica a salvezza e quindi sono contenta di questo risultato e soprattutto di questa vittoria perché le ragazze se lo meritavano. Era l'obiettivo minimo e io non ho mai accettato troppo il termine salvezza perché non abbiamo mai giocato le partite per questo obiettivo. Ci sono ancora tre giornate quindi siamo soddisfatti di questo risultato anticipato. e mi piace anche molto l'idea che ci sono molti giovani in campo e quindi una crescita importante della nostra squadra con tante prospettive per noi. Possiamo sicuramente pensare già al prossimo anno, abbiamo già dei punti di riferimento interessanti per poter non costruire ma inserire ulteriori componenti che ci possono permettere di fare ancora meglio. Per me è una grande soddisfazione vedere molte ragazze della primavera che stanno crescendo con la prima squadra Ilaria Leoni è stata sicuramente il mister, un'ottima opportunità per costruire questo processo che era voluto dalla società e quindi sono molto soddisfatto anche questa grande vicinanza quindi con la primavera e anche con tutto il settore giovanile. Per me è molto importante costruire dai giovani quindi era proprio l'obiettivo e ci stiamo lavorando e stiamo ottenendo dei buoni risultati.